Che cosa fai quando trovi un negozio online oppure trovi un prodotto online che vuoi acquistare o ancora quando scegli un hotel ideale? La cosa che fanno tutti, la maggior parte delle persone è quello di guardare le recensioni online, quindi il feedback di altre persone che hanno avuto esperienza diretta con quel prodotto, con quell'e-commerce o con quell'hotel. Le recensioni e la social proof, quindi la prova, la riprova sociale, sono diventati fondamentali per aumentare la fiducia degli utenti verso un brand e quindi aumentare la credibilità e la reputazione di quel brand e di quell'azienda. È divenuto quindi molto importante anche per chiunque voglia realizzare o abbia già un e-commerce avere delle recensioni positive sui propri servizi e sui propri prodotti. Avere inoltre delle recensioni, dei commenti, delle opinioni di clienti positive, quindi anche delle opinioni comunque dettagliate, delle opinioni accurate, ti può permettere di migliorare i tuoi prodotti perché ti permette di ottenere dei feedback degli utenti su determinate caratteristiche o determinati aspetti del tuo servizio. Quindi migliorare il tuo e-commerce e il tuo prodotto è un altro vantaggio molto importante che ottieni dalle recensioni effettuate dagli utenti. Ma come si fa esattamente a ottenere delle recensioni positive e a gestire queste recensioni o a richiedere le recensioni agli utenti in maniera efficiente soprattutto all'interno di un e-commerce. Per fare questo sono nati dei veri e propri servizi, delle aziende che si occupano di aggregare, di richiedere e di aggregare e di valutare e verificare le recensioni effettuate dagli utenti. Queste società si occupano proprio di raccogliere e di certificare le recensioni rilasciate dai clienti del tuo sito e-commerce in maniera del tutto trasparente in modo tale che i nuovi visitatori che entrano all'interno del tuo sito e-commerce abbiano molta più fiducia verso i tuoi prodotti e verso il tuo servizio. Online ci sono veramente tantissimi servizi che si occupano di raccogliere e di certificare le recensioni. I più importanti sono sicuramente Trustpilot che è il leader a livello mondiale, il più utilizzato a livello mondiale e poi Ecomi e Revo che sono sicuramente molto conosciuti a livello globale. In Italia si utilizza anche Fidati che fa parte di Zoorate che viene molto utilizzato a livello nazionale per raccogliere e certificare le recensioni degli e-commerce. Strumenti come Trustpilot o Fidati permettono di essere integrati all'interno del proprio e-commerce quindi di gestire in maniera del tutto automatica la raccolta, la verifica e la pubblicazione di recensioni. Il loro funzionamento è piuttosto semplice, loro inviano una volta che viene effettuato, ogni volta che viene effettuato un acquisto, inviano una richiesta di recensione a quel determinato utente. Questo può essere fatto in maniera manuale oppure anche in maniera automatica essendoci proprio dei plugin e delle integrazioni per ciascun servizio per il proprio CMS. Una volta che il cliente rilascia la recensione, questa recensione viene aggregata insieme alle altre, viene verificata ed eventualmente segnalata in alcuni casi a seconda del servizio che si sceglie, segnalata all'e-commerce in questione e poi viene pubblicata sul portale del servizio, quindi pubblicata e resa accessibile a chiunque. La maggior parte di questi servizi inoltre fornisce anche dei sigilli di garanzia, dei badge da poter inserire all'interno del proprio sito e-commerce per mostrarne l'affidabilità, per mostrarne anche il numero di recensioni. Inoltre ti permettono anche di ottenere dei widget o dei plugin da inserire all'interno della propria pagina fan Facebook oppure all'interno del proprio sito e-commerce per mostrare queste recensioni, quindi scegliere proprio le recensioni che vuoi mostrare e mostrarle in maniera del tutto automatica, sempre aggiornate. Come abbiamo detto prima, la maggior parte di questi servizi permettono anche l'integrazione con il proprio CMS, quindi permettono di gestire tutto questo processo di invio, richiesta di recensione e poi anche l'ottenimento, aggregazione e pubblicazione della recensione stessa in maniera del tutto automatica. Oltre all'aspetto al processo fondamentale di raccolta e pubblicazione delle recensioni, questi servizi permettono anche di ottenere una reportistica dettagliata, quindi una statistica di tutte le recensioni e commenti rilasciati dagli utenti in modo tale da effettuare un monitoraggio della propria reputazione, della reputazione del proprio brand. In aggiunta, molti di questi servizi permettono, come abbiamo detto prima, di condividere le recensioni sui social e permettono anche di inserire dei codici all'interno della propria scheda prodotto in modo tale da condividere e da pubblicare le recensioni, le stelle all'interno dei risultati di ricerca di Google, quindi le stelle all'interno dei rich snippet, cioè dei dati strutturati. Sicuramente per iniziare a gestire in maniera ottimale e in maniera efficiente le recensioni, uno dei servizi migliori è sicuramente Trustpilot che è leader a livello mondiale e che ti permette anche di ottenere la pubblicazione delle recensioni, quindi delle stelline di recensioni sui tuoi prodotti e sul tuo e-commerce su Google Shopping. Un altro servizio che potresti utilizzare è sicuramente Fidati che abbiamo detto prima è un servizio completamente italiano che ti permette a basso costo di gestire in maniera ottimale, in maniera efficiente le recensioni all'interno del tuo e-commerce. Mi raccomando, se hai un brand nuovo, se hai una startup o un e-commerce nuovo, è importantissimo che sviluppi il più possibile la credibilità del tuo brand, dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi, quindi aumenti la fiducia degli utenti verso la tua azienda. Per fare questo è importantissimo che utilizzi le recensioni, che aumenti il più possibile il numero di recensioni positive sui tuoi servizi e sui tuoi prodotti.